Buato nella notte, ladri fanno esplodere un bancomat a Montelabate. Spaccio di cocaina tra Fano e la Campania, arresti e sequestri. Evade un milione, la finanza gli confisca conti, auto e immobili. Stop all'ospedale unico, Ricci protesta organizzando un presidio a Muraglia. Spaccio di cocaina tra Fano e la Campania. Con tutte le cose accadute in questi giorni, ma soprattutto nella giornata di oggi. Allora partiamo con una notizia che ci porta direttamente a Montelabate, perché questa notte i residenti di via Risorgimento sono stati infatti svegliati alle 2.45 da un fragoroso boato. Una banda di ladri ha utilizzato del gas per far esplodere un bancomat della filiale della BCC Banca di Pesaro. Un'esplosione che ha letteralmente sventrato il perimetro della banca, abbattendo le pareti in vetro e in cartongesso. Immediato l'allarme è dato dai residenti ai carabinieri, ma i ladri sono comunque riusciti a intrufolarsi all'interno della filiale ed afferrare una somma di contanti ancora da quantificare. I banditi sono riusciti a dileguarsi prima dell'arrivo dei carabinieri, che ora indagano vagliando le immagini di videosorveglianza. E continuiamo con la cronaca, ci spostiamo a Fano perché i carabinieri hanno completato proprio oggi un'articolata operazione di smantellamento di una banda dedita allo spaccio di cocaina tra Fano e la Campania. L'hanno chiamata operazione ricariche. Un po' per i continui smerci di droga pagati ricaricando a crediti su poste pay, un po' per quel termine car che indicava un linguaggio criptato di compravendita di automobili quando in realtà il commercio era di cocaina. Ingente e continuato fra Fano e Pesaro in collegamento ad Acerra e Cicciano nel Napoletano. Così i carabinieri di Fano alle prime ore dell'alba di oggi hanno dato esecuzione in campagna di un'ordinanza di misura cautelare emessa dal giudice per indagini preliminari di Pesaro nei confronti di nove indagati di spaccio di cocaina, riciclaggio e distorsione. 14 in tutto gli indagati, uno dei quali è stato già raggiunto dalla custodia cautelare in carcere. Agli altri otto sono stati sequestrati beni di loro proprietà di circa 150.000 euro, una cifra corrispondente al profitto ottenuto dalla vendita dello stupefacente. Le indagini dei carabinieri di Fano assieme ai colleghi del nucleo operativo sotto la direzione della Procura della Repubblica di Pesaro sono partite a dicembre e hanno consentito di smantellare una banda di nove criminali tutti campani di Acerra e Cicciano che organizzavano viaggi e spacci di cocaina a Fano e Pesaro. Durante l'indagine sono stati eseguiti in tutto quattro arresti in flagranza con il sequestro di circa mezzo chilo di cocaina. Episodio chiave, l'arresto di una coppia fanese avvenuto il 18 febbraio. Due coniugi furono infatti sorpresi ad occultare stupefacenti in un capanno vicino alla loro casa di Fano. Da lì in poi una lunga indagine ha approfondito i canali di approvvigionamento che sono stati individuati in un padre e un figlio di Acerra di 61 e 36 anni che trafficavano grosse quantità di cocaina in viaggi regolari verso Fano e Pesaro. Non solo la coppia fanese ma anche a Pesaro altri giovani sono stati sorpresi con quantità di polvere bianca poi pronta per una ulteriore rivendita al dettaglio. Le indagini hanno ricostruito viaggi dello spaccio che risultavano del tutto imprevedibili, così come insospettabili erano i luoghi dello smercio, tra questi anche l'interno dell'ospedale Santa Croce con il 61enne presentatosi in giacca e cravatta a smerciare coca nel nosocomio come ripreso dalle telecamere. Dopodiché tutto finiva sulle poste pay con accrediti di 800.000 euro pronti a essere ripuliti. In tutto si stima che quelle ricariche siano ammontate a 150.000 euro. All'alba di oggi il 61enne trafficante di Acerra è stato arrestato e trasferito nel carcere napoletano di Poggio Reale. A carico di 9 dei 14 indagati ad Acerra sono state eseguite all'alba anche perquisizioni domiciliari che hanno permesso di rinvenire altri 5.000 euro in contanti, altri duetti di hashish e un etto di cocaina pronti per la cessione all'ingrosso. Agli indagati sono stati sequestrati beni del valore complessivo di 150.000 euro. E dai carabinieri passiamo alla Guardia di Finanza di Pesaro che ha eseguito una maxi confisca di beni e denari ad un imprenditore edile che ha evaso il fisco per più di un milione di euro. Vediamo tutto in questo prossimo servizio. Più di mezzo milione di euro confiscato dai conti bancari personali, due automobili sequestrate eppure un immobile in provincia di Bergamo. E' stato questo il maxi provvedimento di confisca ratificato dal Tribunale di Pesaro che ha condannato un imprenditore edile di 36 anni in seguito a un'approfondita verifica fiscale della Compagnia della Guardia di Finanza di Pesaro. Le Fiamme Gialle hanno infatti scoperto una consistente evasione fiscale superiore al milione di euro a carico dell'indagato che è titolare di una ditta operante nel settore delle costruzioni di edifici residenziali. Imprenditore che, secondo la Guardia di Finanza, si è reso responsabile del delitto di omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per l'anno di imposta 2016. L'ispezione minuziosa della finanza ha però permesso di ricostruire i reali guadagni nascosti, cioè oltre un milione occultato al fisco, e recuperare dunque la cifra attraverso la confisca di beni. Oltre alle sanzioni amministrative, l'imprenditore è stato deferito alla Procura della Repubblica di Pesaro che ha istruito un procedimento penale che ha portato alla condanna di confisca di denaro e beni, ma anche a una pena detentiva. Ieri sera una donna di 49 anni è stata trovata morta nel suo appartamento di Via Paterni a Pesaro, nella zona mare. Alcuni parenti, non sentendola rispondere al telefono, si sono recati presso l'abitazione, trovandola purtroppo senza vita. Un decesso presumibilmente avvenuto per cause naturali. Sul posto sono intervenuti 118 e la squadra volante della Polizia. È stata ora disposta l'autopsia. Il Tribunale di Pesaro ha rinviato a giudizio un 54enne ed una 33enne rumena, presunti colpevoli di aver prosciugato i conti in banca di un 70enne pesarese affetto da disturbi psichici. Guadagnata la fiducia dell'anziano, i rumeni hanno convinto l'uomo ad aprire un nuovo conto in banca e staccare assegni per più di 10.000 euro per spese di vario genere, compreso un loculo al cimitero. L'anziano dopo mesi si è reso conto dei raggiri e ha sporto denuncia aiutato da familiari e avvocati. Politica e sanità continuano ad intrecciarsi nella vicenda del fatidico ospedale unico dopo lo stop alla realizzazione nell'ultimo consiglio regionale. Soddisfazione che arriva dal centro-destra tuona invece il centro-sinistra con Matteo Ricci. È arrivato un altro stop del consiglio regionale alla realizzazione del nuovo ospedale unico Marche Nord a Pesaro. È stata infatti approvata con il voto favorevole di centro-destra, Movimento 5 Stelle e Rinasci Marche, una mozione presentata dalla consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Marta Ruggeri e modificata da un emendamento firmato dai capigruppo Mauro Lucentini della Lega, Carlo Ciccioli di Fratelli d'Italia e Giacomo Rossi dei Civici, oltre a Jessica Marcozzi di Forza Italia e la stessa Ruggeri. 22 i voti favorevoli a 8. Questo il risultato che porta la Giunta a un impegno a verificare la possibilità di revocare la procedura di realizzazione della nuova struttura tramite project financing. Durissima la battaglia in aula, con il consigliere Andrea Biancani che ha invitato a non votare una mozione che penalizzerà una provincia che necessita di una nuova struttura sanitaria di alta complessità come quella prevista e che, a dire di Biancani, non avrebbe tolto risorse alle aree interne. Di tutt'altro avviso i consiglieri Baiocchi, Ser Filippi, Rossi e i cancellieri che hanno tenuto fede a una linea che si attiene alle promesse fatte in campagna elettorale. L'assessore regionale alla edilizia sanitaria Francesco Baldelli ha anche sottolineato come tutta la programmazione della rete ospedaliera spetti alla Regione e non al Governo. Un riferimento più o meno diretto al sindaco di Pesaro Matteo Ricci che recentemente aveva fatto visita alla sottosegretaria al Ministero della Salute Sandra Zampa per porre la questione del nuovo ospedale Marche Nord. Un Ricci che oggi ha tuonato di fronte allo stop minacciando battaglia e organizzando un presidio di protesta sabato alle 15 all'ospedale di Muraglia con distanziamento e massima sicurezza. Pesaro e Fano hanno strutture vecchie di cent'anni, ha detto Ricci. Non è possibile bloccare così lo sviluppo della sanità pubblica provinciale e 250 milioni di investimenti. E oltre ai paletti per l'ospedale unico dalla Regione in arrivo anche un'ordinanza anti-assembramento per cercare di bloccare il propagarsi dei contagi da Covid-19 appunto nella Regione Marche. Nel prossimo servizio cerchiamo di capire in quale direzione andrà questa ordinanza. Zona gialla o zona arancione poco importa. È in arrivo infatti una nuova ordinanza regionale anti-assembramento che riguarderà le Marche fino al 3 dicembre salvo nuovi provvedimenti governativi. Un'ordinanza soft anticipato il governatore Francesco Acquaroli ma che comunque pone nuove regole più stringenti per frenare il contagio da Covid-19. Cominciamo dalla scuola dove salvo controordini saranno sospese le lezioni di educazione fisica al chiusa, le lezioni di canto e di strumenti a fiato. Novità anche sul commercio dove si prevede che l'accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari diventi consentito ad una sola persona per nucleo familiare eccezione fatta per chi accompagna persone non autosufficienti o minori di 14 anni. Regole o raccomandazioni come quella di grandi e medie strutture di riservare ai cittadini over 65 l'accesso agli esercizi commerciali nelle prime due ore di apertura. Restano attivi 24 ore i distributori automatici ma con attenzione a distanziamento e sanificazione settimanale. Regole che saranno poi affidate al puro buonsenso civico come la raccomandazione che si legge nell'ordinanza di non ricevere in casa persone diverse dai conviventi né tantomeno organizzare cene o feste private. Ed ora il consueto aggiornamento con i dati del coronavirus perché sono 479 nuovi casi positivi al contagio da Covid-19 comunicati dal Servizio Sanità della Regione Marche su 4.802 tamponi testati nelle ultime 24 ore. 1.789 nel percorso nuove diagnosi 3.013 nel percorso guariti. Di questi sono 82 i casi di contagio riconducibili alla provincia di Pesaro Urbino stabili ricoveri nelle Marche che sono 606 di cui 79 in terapia intensiva cioè uno in più di ieri. E fra i test medici ci sono anche i tamponi rapidi antigenici che il consigliere regionale Andrea Biancani ha proposto di introdurre in ambito scolastico. Vediamo quindi la sua intervista. Oggi in consiglio regionale abbiamo discusso un'interrogazione molto importante che ho presentato questi giorni interrogazione nella quale io chiedo l'utilizzo di tamponi rapidi antigenici soprattutto per il personale scolastico e per gli studenti. Ricordo che questo tipo di tamponi oggi viene utilizzato principalmente per coloro che in qualche modo gli operatori sociosanitari, sanitari, per quelli che lavorano nelle case di riposo sia anche per gli ospiti e quindi ho chiesto di poter utilizzare questo tipo di tamponi anche che danno la risposta in 15 minuti anche per appunto il personale scolastico e gli studenti. Uno dei problemi maggiori c'è il fatto che comunque non tutti i medici di medicina generale riescono ad avere spazi sufficienti per poter fare in sicurezza questo tipo di test e lo stesso vale per i pediatri e nella mia interlocazione chiedo di poter utilizzare i punti drive cioè dove oggi i cittadini vanno a fare il tampone molecolare di aprire questi punti drive anche i giorni in cui non viene utilizzato proprio per invece fare i tamponi antigenici rapidi. Questo ci consentirebbe di sapere in tempi molto più rapidi perché ci vuole un quarto d'ora se una persona è positiva o non lo è e quindi consentirebbe di accelerare notevolmente quello che è il tracciamento e anche in questo caso di ridurre quelle che sono le giornate perse da parte degli studenti o degli insegnanti all'interno della scuola. Questa ovviamente oggi la proposta è stata fatta per il personale scolastico e studenti ma potrebbe essere riproposta come possibilità anche per tutte quelle persone e quei lavoratori che si occupano a lavorare direttamente a contatto con le persone. Già il Lazio, la Liguria, l'Emilia Romagna e il Veneto stanno facendo i tamponi questi test rapidi antigenici a tappeto mi auguro che quanto prima anche la Regione Marche si adegui e possa garantire questo servizio a tutti i cittadini marchigiani. Ed ora diamo delle comunicazioni che arrivano dal Comune di Fano perché tutte le attività che effettuano servizio d'asporto e consegna a domicilio verranno riunite in un unico sito. E' questa infatti la nuova iniziativa del Comune di Fano per sostenere i locali chiusi a causa delle restrizioni vigenti. Come ci spiega in questo servizio di Simone Celli si tratta di una nuova vetrina per bar e ristoranti che consente un filo diretto con il cliente. Pizza d'asporto o piatto gourmet direttamente a domicilio? Nessun problema, da oggi basta un click. Il Comune di Fano ha infatti lanciato un sito, o meglio una landing page che unisce già una quarantina di bar, ristoranti e altri locali che effettuano il cosiddetto take away o che consegnano le loro specialità direttamente a casa dei clienti. Una vetrina in continuo aggiornamento nata per sostenere le attività della città della fortuna in questo momento così delicato ma anche per aiutare i fanesi a scegliere cosa mangiare per cena direttamente online. Su visitfano.app si potranno trovare informazioni, menu, foto dei piatti e con un colpo di mouse si potrà persino telefonare. È un momento di crisi, le attività sono in difficoltà, i ristoratori scendono in piazza ma il Comune è sceso in campo per fare qualcosa. Ma sì, assolutamente. Innanzitutto crediamo che questo difficile momento si attraversi soltanto su un momento di comunione e solidarietà. bisogna che ci uniamo tutti insieme e capiamo tutti insieme come attraversare questo momento. Molte attività lo stanno facendo anche proponendosi con asporto, con consegna a domicilio oppure realizzando anche dei portali digitali a fine di rendere meglio la comunicazione sulla propria attività e sui propri servizi. È per questo che nel nostro sito visitfano.app abbiamo implementato questo servizio dove sarà possibile trovare tutte le attività che fanno questo tipo di attività. Quindi tutti i ristoranti locali che fanno consegna a domicilio a asporto si troveranno in una mappa, le persone potranno andare nel sito, tramite delle iconcine potranno trovare la scheda del locale che dà questo tipo di servizio. Quindi lì trovare i numeri di telefono, trovare le immagini dei menu piuttosto che i prezzi del menu che il locale propone e chiedere informazioni. Quindi chiamare per potersi far capitare a casa le vivande piuttosto che per andare a prendere il prodotto direttamente nel locale come asporto. Ecco, quindi sono tante le attività che stanno facendo questo. E' difficile capire quante ce ne sono. Il Comune di Fano si mette a disposizione per creare un luogo fisico dove il cittadino può entrare e può trovare tutte le informazioni che gli servono rispetto ad un servizio che ovviamente in questo momento è più che opportuno. Quanti locali stanno partecipando? Ma in questo momento sono circa una quarantina i locali che hanno già aderito, anche grazie a nostra sollecitazione. Oggi siamo proprio qua per dire tutti i locali che vogliono aderire che hanno deciso di implementare questo servizio basta che ci mandano una comunicazione, una mail all'indirizzo turismo chiocciolacomune.fano.pu.it o semplicemente chiamando il nostro ufficio turismo dove ci sono i nostri addetti che proprio in questi giorni stanno lavorando a questo progetto dando informazioni sul nome dell'attività informazioni generali dell'attività siti o numero di telefono e foto, immagini magari dei prodotti che stanno vendendo piuttosto che del menu intero con i prezzi che in un qualche modo chiederanno servizio al cliente. Giornalismo in lutto per la scomparsa a 83 anni del fanese Nestore Morosini. È morto nella notte all'ospedale Sacco di Milano dove era ricoverato dopo aver contratto il Covid-19. Morosini è stato per 47 anni una firma del Corriere della Sera lavorando come capo servizio dello sport e inviato speciale. Ha raccontato generazioni di Formula 1 che è stata una delle sue grandi passioni ma anche l'Inter e le spedizioni olimpiche. Messaggi di cordoglio dal sindaco di Fano Massimo Seri da anni particolarmente legato alla famiglia Morosini. Domani, giovedì 19 novembre parte un nuovo programma su Rossini TV realizzato e pensato proprio dall'associazione 50 e più della Confcommercio Pesaro Urbino si intitola Generazione Silver ed è per questo che abbiamo intervistato Alberto Dolci che è presidente dell'associazione 50 e più. 50 e più è un sistema associativo di servizi nato all'interno di Confcommercio già da 45 anni e tra i suoi obiettivi si pone quello di seguire attraverso il rilascio di servizi gli aspetti pensionistici e fiscali dei propri associati non trascurando però il loro benessere psicofisico quindi fornisce loro anche un supporto, un'assistenza da parte dell'intero staff dell'associazione per fargli vivere una vita migliore specialmente nella loro Silver Age. Con questa prospettiva per cercare di avere con loro un contatto e mantenere viva anche la relazione tra l'associazione e i suoi componenti abbiamo deciso di produrre dei programmi TV con l'idea appunto di superare l'impossibilità di incontrarsi fisicamente l'impossibilità come dicevo è generata dalla pandemia quindi il consiglio di amministrazione di 50 e più della provincia di Pesaro Rubino ha prodotto una serie di programmi che appunto sto ora presentandosi in collaborazione con Rossini TV programmi che sono stati realizzati grazie al consigliere Marcello Mammini e alla vice presidente vicario della nostra associazione provinciale Patrizia Caimi il nome di questo programma è Generazione Silver e già da questo si capisce qual è il nostro intento noi vogliamo trattare e dibattere argomenti che riguardano la generazione Silver cioè tutto quello che succede dopo i 50 anni nell'ultima parte della vita delle persone che è comunque per noi molto ricca e di grande valore non perdeteci chiamiamo 50 e più e questo ci definisce già questo programma avrà più o meno quattro punti in cui si articolerà inizierà con la lettura di alcune notizie che riguardano gli over 50 e saranno notizie relative all'argomento economico sociale e anche di costume notizie quindi che appunto sicuramente saranno di interesse per tutti quelli della Silver Age proseguiamo poi dando spazio alla rubrica Dottore Midica che il nutrizionista clinico Davide Schembri terrà nel corso della quale verranno affrontate tematiche particolarmente care al mondo della terza età poi successivamente nel proseguo del programma si andrà alla ricerca di personaggi noti e meno noti della nostra provincia e ci saranno interviste specifiche su esperienze di vita in diversi ambienti tipici dove ogni persona appunto della Silver Age si potrà rivedere termineremo il programma affrontando gli aspetti tecnici di rilevanza fiscale e sindacale che riguardano un po' tutte le persone che sono in pensione e tutti quelle che saranno in procinto di lasciare il lavoro tutto questo sarà fatto con l'aiuto del nostro coordinatore regionale Roberto Paoletti e dalla nostra responsabile locale Cristiana Borficchia spero che questa presentazione della nostra iniziativa possa avere invogliato a seguire tutti i nostri programmi e concludo ringraziando tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di queste attività in particolare i consiglieri Marcello Mammini di Patrizia Caini, Maurizio Tonelli e Mauro Lancia e un particolare ringraziamento anche alla signora Annalisa Ballarini di Confcommercio che si è apprestato la sua attività come speaker e un saluto a tutti e arrivederci a presto su Rossini TV Contro un mondo sordo al canto della libertà Contro un mondo sordo al canto della libertà E allora non perdetevi la prima puntata domani alle 19 di Generazione Silver veramente è una sorta di notiziario con informazioni molto utile per quelle che sono appunto le problematiche ma anche le iniziative riguardanti la terza età lo potrete vedere appunto domani alle 19 oppure in streaming dal sito rossinitv.it e poi andiamo anche a parlare della prima serata di questa sera perché questa sera ci avviciniamo al Natale andando a scoprire le notizie e le novità del Giardino di Santa Maria non perdetevi questo speciale tv che ci sarà alle 21.15 e verrà replicato alle 22.30 ed ora anche lo sport perché venerdì 20 novembre questo venerdì alle 20.30 in diretta su Rossini TV la giornata numero 7 dal Pallanino Pizza di Pesaro Little Service Calcio a 5 Pesaro incontra il Bernardiello Petrarca quindi una partita da non perdere che potrete seguire comodamente in diretta su Rossini TV Grazie come sempre per averci seguito anche questa sera vi ricordiamo il nostro numero per le vostre segnalazioni chiamateci o mandateci un messaggio su WhatsApp noi cercheremo di risolvere quello che non va nel vostro quartiere oppure nel vostro territorio vi ricordo che l'informazione torna domani mattina con la nostra rassegna stampa in diretta alle 7.20 adesso per voi il meteo grazie a tutti